Capite che c'è il rischio di un incentivo anche che qualcuno dica io non sono in contatto di niente o meglio tu sei positivo, non dire che mi hai visto. Qualcuno ha ancora bisogno di andare a lavorare. Questo guardate che inquietante sta storia, non possiamo imporre le quarantene e non pagare chi è in quarantena come malattia. I rischi di peggiorare la situazione epidemiologica sono evidenti, per questo usa parole nette Luca Zaia nel chiedere al governo di riconoscere le quarantene per contatto stretto come malattia, nodo che interessa migliaia di lavoratori nel solo Veneto, dove il contagio continua a dilagare circa 18.000 i positivi nelle 24 ore. E certo non aiuta il contact tracing ormai in tilt, con Omicron già oltre il 60% dei casi è destinata a impennarsi ulteriormente nel giro di 10 giorni. Anche per questo Zaia chiede di tradurre in pratica la linea delle CDC, il centro europeo della prevenzione delle malattie, e quindi tenere fuori gli asintomatici dal conto dei positivi, con effetti molto concreti. Andrebbe ritarato il piano di sanità pubblica, rispetto alle scelte su chi tamponare, chi monitorare, chi contattare. Stesso criterio che dovrebbe essere utilizzato anche nel considerare i pazienti ospedalieri, Zaia porta l'esempio della puerpera asintomatica che risulta positiva prima del ricovero. Noi chiediamo che questa quota di pazienti, che non è vastissima, che però sono qualche decina, qualche centinaio nei grandi numeri, che fra l'altro nel passaggio di colore di area con questo sistema di oggi pesano, vengano depennati dalle statistiche. Veneto che resta giallo ma che vede comunque l'arancione dietro l'angolo. Attenzione però, avverte Zaia, Omicron resta pericolosa. Nei primi 13 giorni di gennaio si è registrato un più 41% delle presenze di non vaccinati nelle terapie intensive rispetto al mese precedente e un meno 8 invece di vaccinati. Un dato sanitario che si traduce sempre più spesso in un fenomeno preoccupante. Arrivano sempre più pazienti che continuano a resistere a casa, che chiamano addirittura a 118 e poi rimandano il... Guardate questa è storia che ve la posso far raccontare dagli operatori. Mettono giù e dico me e richiamerò. Alla fine vanno a prendersela a casa che non respira più. Questa è la tragedia. Quanto alle scuole, sono 254 su un totale di 1.039 sotto provvedimento. Le classi scolastiche in quarantena per la presenza di casi covid, 20.700 i ragazzi in isolamento, riferito l'assessore Emanuela Lanzarina, 509 i positivi invece tra i 30.000 ospiti delle case di riposo. Tra di essi però soltanto 20 gli anziani ricoverati in ospedale. Segno che il vaccino per i più fragili funziona.